Penso che io non trovo affatto giusto che la donna debba essere succube della violenza, non lo trovo affatto giusto, anzi è un'ingiustizia e secondo me è arrivato il momento di ribellarsi. Venga Mirror è un progetto che nasce l'anno scorso e coinvolge tutta la via alle attività, mettono a disposizione la propria vetrina non solo per vendere e promuovere i loro prodotti, quindi per un discorso economico, ma la mettono in gioco per comunicare qualcosa di sociale e quindi cosa c'è dietro quella vetrina, chi vive all'interno di quell'attività? Sono persone che pensano e che hanno una loro idea su dei temi sociali che li toccano da vicino e per questo noi abbiamo voluto dare voce al loro sentimento, alle loro emozioni rispetto a questo tema che ci tocca molto anche a noi come collettivo di artiste. Siamo quattro artiste che ci aiutiamo, che abbiamo condiviso tutto questo progetto, c'è chi ha realizzato la parte pratica, chi ha pensato alla parte di comunicazione, quindi è tutto un lavoro d'equip, d'insieme che ci ha dato il modo di coinvolgere una via di installare un'opera d'arte partecipata e urbana dove tutti quanti sono artefici e attivi. Dopo che le mie colleghe hanno incollato tutti quanti i sticker specchianti sulle varie vetrine delle attività, io sto passando per inserire il messaggio, oltre che gli sticker che poi indicano il motivo della manifestazione e appunto ogni commerciante ha espresso poi la sua opinione in merito, chi con lo stesso specchio che è stato realizzato l'anno scorso come nel caso del macellaio e chi invece ha suggerito una cornice o un'immagine che potesse in qualche modo richiamare l'attenzione sul tema. Dato che gli specchi avrebbero avuti tutte forme diverse, ispirate dai commercianti e dagli artigiani, le persone nel momento in cui camminavano dovevano vedere una costante, quindi ad esempio il pallino rosso e le scritte tutte uguali per quanto riguardava la giornata e quindi noi abbiamo insistito molto nel mantenere, nel progettare questa coerenza mantenendola poi mentre uno passeggiava. Una cosa importante di cui abbiamo tenuto tutti conto ed è il motivo che ci ha spinto a far partecipare ovviamente in maniera attiva tutte le persone è che quando uno fa un'azione si sente parte attiva del progetto, quindi dando la propria idea, è molto più probabile che poi interiorizzi il messaggio come in questo caso e che quindi anche in qualche modo si sente più responsabile. È importante partecipare per sensibilizzare il tema, quello della violenza sulle donne appunto, diffondere sempre di più della notizia o comunque l'informazione, aumentare l'informazione fino a far prendere consapevolezza. Poi bisognerebbe forse andare nelle scuole a spiegare che cos'è. Io sono per l'educazione sentimentale eccetera quello che è, ma bisogna introdurre nelle scuole un corso di educazione all'affetto, al sentimento, quello che si vuole chiamare. Ormai i tempi sono maturi per avviarsi verso una parità di genere completa e quindi anche verso una non violenza totale. Le donne per me sono sacre, quelli che fanno queste cose proprio non li sopporti. È molto importante per far capire alle persone che ci siamo. Voi giovani state facendo delle cose importanti che dovevamo fare magari noi, però vabbè, meglio tardi che mai. L'abbiamo fatto ormai anche l'anno scorso, era giusto secondo me fermare questa macchia nera che ormai si sta dilagando in tutto il mondo, non solamente nel nostro paese. bisogna dare un freno, un arresto a questa cosa qua. Mi sembra giusto partecipare. Quello che ho fatto è un'immagine senza gli occhi, senza niente, ma come una mano davanti. E c'è anche una scritta che significa... Come una mano davanti in realtà? Sì, come una mano davanti alla faccia significa che non bisogna, non bisogna, non so, di violenza contro le donne, quindi... E io fino adesso ho di violenza ne vedo troppa. Grazie a tutti.